Meno fallimenti ma sullo sfondo un possibile peggioramento del quadro economico ascrivibile al caro energia carburante e soprattutto la concreta possibilità di vedere chiudere molte aziende per crediti, sì avete capito bene per crediti e non per debiti, patologia tutta italiana e quanto emerge da uno studio della CGA di Mestre sui dati della Camera di Commercio in Molise nei primi cinque mesi del 2022 si sono registrati 13 fallimenti di attività commerciali, 12 in meno rispetto allo stesso periodo del precedente anno meno 48 per cento, di questi 9 si sono registrati in provincia di Campobasso 18 nel 2021, 4 in quella di Isernia, 7 nello scorso anno. Sebbene a livello nazionale il numero dei fallimenti negli ultimi due anni non sia particolarmente elevato, fa sapere la CGA, il rischio che dal prossimo autunno torni ad aumentare in misura preoccupante è alquanto probabile tra il deterioramento del quadro economico generale a causa dell'incari di carburante, energia e materia prima e all'impennata dell'inflazione, spiega l'Associazione degli Artigiani, l'impossibilità di cedere i crediti acquisiti con il super bonus 110 per cento e i mancati pagamenti della pubblica amministrazione nei confronti dei propri fornitori. Molte attività commerciali e produttive rischiano di dover portare i libri in tribunale con una specificità tutta italiana per molte di queste imprese. Come dicevamo la chiusura definitiva non sarà causata dall'impossibilità di pagare i propri debiti ma per crediti inesigibili ovvero per insolvenze in grandissima parte imputabili alle inadempienze della pubblica amministrazione.